La cultura di un territorio emerge da tutti quanti noi, emerge dalla politica ed emerge dagli esempi proprio di quest'ultima che è deputata e delegata da tutti quanti noi cittadini tramite libere votazioni. In politica purtroppo esistono vari tipi di culture, c'è quella mafiosa e c'è quella di giustificare o occultare delle incapacità. Quello che va bene è semplicemente politica pura e la politica siamo noi e non possiamo sempre demandare a terzi anche nostre scelte sbagliate. O ancora peggio che poi la fase e l'aspetto più drammatico della situazione dove va a inclinare tutto il concetto cultura si lasciano parlare persone che non hanno nessun tipo di esperienza in ambito teatrale, artistico e quant'altro che fino a ieri hanno fatto altro ma solo per un fatto politico oggi si ritrovano a parlare di una cosa che sinceramente lascia un po' perplessi tutti quelli che effettivamente si occupano del settore da tanti anni. Ma questa purtroppo è anche la cultura del nipotismo politico, dell'amico di e tutto quello che conosciamo già da molti anni sul nostro territorio. Allora se noi continuiamo a dare retta a questo tipo di cultura e la chiamano cultura ma non è cultura, è un'altra cosa, non andiamo da nessuna parte. Abbiamo un po' di tempo per cominciare a raddrizzare il tiro ma ripeto con questa cosa che qualcuno continua a bestemmiare cultura ma non lo è, non andiamo da nessuna parte. Veniamo quindi alla cultura che dicevamo prima. Oggi grazie alla segnalazione dell'Associazione Le Aquile di Altamura e della protezione civile mi sono fatto un giro in quello che deve essere il territorio protetto del Parco Nazionale dell'Altamurgia e la stessa segnalazione parlava di copertoni, gomme, ruote, di mezzi pesanti abbandonati come in una discarica a cielo aperto. Effettivamente ho trovato questo scenario sconcertante ma molto di più approfondendo il loco, ho trovato addirittura amianto. Allora invito questi signori che si riempiono così la bocca per darsi un tono con definizioni che poi risultano come si vede fuori luogo, cantiere politico, workshop, officine, impatti zero, chilometro zero eccetera devono meditare che le cose si devono fare dalla base, non buttare fumo negli occhi della gente o polvere sotto il divano come si usa dire. Io mi sono fermato solo su due strade ma mi hanno assicurato che in tutto il comprensorio del Parco Nazionale dell'Altamurgia c'è qualcosa di questo tipo che stiamo vedendo nelle immagini così e anche nelle rispettive città Altamura e Gravina. Stendo un velo pietoso su Matera ma ci tornerò con un editoriale dedicato e con materiale che mi hanno già fornito come non parlo dell'altro lato del Parco dell'Altamurgia che guarda il mare per intenderci Corato, Andrea Ruvo eccetera e dove veramente c'è scusatemi da piangere. Quindi secondo me quando parlano di cultura forse qualcuno si riferisce alla sua di cultura bassa e scadente e che rispecchia purtroppo lo devo dire anche le loro rispettive abitazioni, loro domicili o a un qualcosa che si chiama diversamente ma che ostinatamente continuano a chiamarla cultura. Grazie. 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 Grazie.